ben ritrovati con agri mag news bene abbiamo raccolto un po le testimonianze nell'agro di massafra per la coltivazione degli agromi e abbiamo sentito citare spesso i tecnici di agri mag sentiamo dai tecnici agri mag in effetti la situazione che loro hanno trovato quando sono arrivati in campo e le innovazioni che hanno voluto introdurre per migliorare la produzione e la qualità di questi agrumi bene pasquale salerno tecnico di agri mag qual è questa esperienza che ha voluto comunicare agli agricoltori di massafra niente dopo aver conosciuto delle splendide persone che sono venuti a trovare in azienda e mi hanno chiesto di venire a fare un sopralluogo nelle loro aziende ho riscontrato un'agricoltura splendida però con una palla al piede cioè l'innovazione che faceva fatica a subentrare alle vecchie tecniche che continuavano a utilizzare anno per anno non è stato difficile francamente individuare quali erano le problematiche principali e quali erano i bisogni sia della delle piante sia del terreno la prima la prima esperienza è stata quella di utilizzare prodotti di tipo organico soprattutto come concimazione a base di farine animali di prodotti a base organica ricca di proteine in modo tale che la risposta è stata immediata e questo si è visto velocemente Gli agricoltori parlano di interventi fitosanitari a basso impatto ambientale che cosa significa? Un altro obiettivo che ci siamo posti e in collaborazione con i produttori siamo riusciti a portare avanti è un abbattimento dei residui fitosanitari anziché usare molecole chimiche ad alto impatto quali clorpirifos o altre molecole si è cercati di sostituirle con altre sia molecole a basso impatto o utilizzando tecniche che limitavano le problematiche fitosanitarie e in questo abbiamo raggiunto un buon risultato abbiamo fatto meno trattamenti abbiamo cercato di individuare quali erano i momenti più più propizi o più opportuni per fare questi trattamenti e francamente i risultati sono sotto gli occhi di tutti quindi da un lato si è avuto un forte risparmio nell'acquisto di mezzi tecnici e dall'altro si è avuto un incremento della qualità penso che le persone più soddisfatte sono i produttori e anche i consumatori che domani avranno piacere di consumare questi prodotti stiamo valutando un notevole attacco di mosca celatitis capitata mosca tipica delle arance e delle clementine in questo campo in questa situazione vicino a una pianta di arancio possiamo vedere una notevole quantità di mosche che stanno distruggendo le arance sulla pianta come si può vedere come si può vedere anche al lato sud di questa pianta lato più caldo le arance sono state tutte compromesse dalle punture di questo insetto che in certe annate riesce a distruggere gran parte del raccolto possiamo vedere alcuni sistemi di contrasto e di controllo di questo insetto uno di questi sono le trappole attrattive le cera trap come anche le trappole trap and kill magnet med sicuramente i produttori sanno distinguere quelle più i mezzi tecnici più efficaci a seconda dei casi trattamenti con fosforganici sono ammessi seguendo ovviamente disciplinare di produzione ma in annate con altre infestazioni va moritorato con attenzione il periodo più idoneo per l'impiego e soprattutto controllare se l'effetto e se il trattamento riesce a contenere l'infestazione nato poiché è molto difficile contrastare con un unico trattamento questo insetto il consiglio del tecnico è quello di utilizzare sistemi di controllo come per esempio le magnet med che sicuramente sono la soluzione più efficace a questo prodotto aiutaci a crescere lasciaci un like condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici